La parola omaggio è quella che stiamo cercando di utilizzare di più per descrivere appunto l'approccio che abbiamo avuto col film. È stato un lavoro molto duro, però poi alla fine siamo contenti perché è uscita fuori una cosa che era da un po' di tempo che in Italia non si vedeva. Speriamo che il pubblico si diverta come ci siamo divertiti noi a farlo perché è stata un'esperienza molto bella. È una grandissima emozione anche perché abbiamo appena fatto un giro del cinema, abbiamo visto quanta passione c'è per il cinema qui, nel senso che tutto è studiato appunto per godere dei film al massimo. È bello vedere il film a casa ma è molto più bello vederlo al cinema. Grazie a tutti.